Si nascondeva in una casa accantoniera il quarantenne latitante accusato per l'assalto a un portavalori. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna per i reati di rapina, attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento seguito da incendio e porto d'armi. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti numerosi cellulari con relative schede telefoniche, radio, ricce trasmittenti, abbattitori di frequenze, bari e portatarga in plastica, targhe di nazionalità tedesca, lampeggianti blu, arnesi da scasso e appunti su località e tempi di percorrenza. Il soggetto dovrà rispondere di due assalti a portavalori verificatesi sull'autostrada a 14 nel giugno e ottobre 2008, all'alterza di Bologna e Forlì. Nel primo assalto il gruppo criminale si impossessò della somma di oltre 3 milioni di euro.